Ok, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova lezione di TDP. Dunque oggi faremo, diciamo così, un ripasso, perché sono concetti che dovreste già aver visto almeno in parte nei precedenti corsi, soprattutto immagina, programmazione oggetti. Quindi faremo un ripasso di alcune strutture dati particolarmente importanti, che andremo a usare molto durante il nostro corso, quindi vi invito a seguire bene. Strutture dati un po' più complicate rispetto alle varie liste, array, che dovreste già aver quantomeno utilizzato negli esercizi precedenti, tipo in quello libretto voti, se non sbaglio. Quindi avremo alcuni set di slide, due set di slide da fare e li inframmezzeremo con alcuni esempi al volo. Non sono proprio degli esercizi, sono più degli esempi che però vi invito a fare, che ci permetteranno di capire meglio, di addentrarci meglio nel funzionamento di queste strutture dati molto importanti per noi. Come sempre, se avete domande, fatele pure nella chat, cercherò di non perdermene nessuna. Va bene, partiamo con i set. Che cosa sono i set e come si differenziano da altre strutture dati, tipo le liste? Beh, sostanzialmente i set sono delle strutture dati che permettono di contenere un insieme di elementi, ma a differenza delle liste non permettono di contenere elementi duplicati. Questa è la principale differenza. Vedremo che però questo ci permette di avere delle performance molto migliori rispetto alle liste. Ma andiamo con calma, andiamo avanti. Vediamo che abbiamo l'interfaccia set, che è figlia dell'interfaccia collection. Vedete che da quest'altra parte dell'albero abbiamo le liste. E questa interfaccia offre una serie di implementazioni vere e proprie, quindi delle classi, che sono principalmente gli hash set, i tree set e i linked hash set. Vi anticipo che noi nel nostro corso utilizzeremo principalmente gli hash set, ma vedremo anche alcune differenze con le altre due classi. Che cosa permettono di fare i set? Questi sono i metodi che ci offre l'interfaccia set, quindi sono comuni a tutte le implementazioni. Ci permettono di fare alcune cose specifiche, meno rispetto alle liste, però vedremo più performanti. Ci permettono di aggiungere un elemento a un set, di rimuovere un determinato elemento, sempre dal set, e ci permettono anche di cercare, quindi di capire se un determinato oggetto, elemento, chiamatelo come volete, è presente all'interno del set. Le due caratteristiche principali, una l'abbiamo già detta, non possono esserci duplicati. L'altro elemento è che si perde il concetto di accesso posizionale, cioè in un set io non posso dire, ok, ora voglio accedere all'elemento 5, a posizione 5, di questa struttura dati, perché questo accesso posizionale nei set non esiste più. Dicevo, noi ci concentreremo in particolare sugli hash set. Questa slide ripete un po' i metodi di prima, perché ovviamente l'implementazione eredita i metodi dall'interfaccia, quindi abbiamo add, remove, contents. Una particolarità aggiuntiva dell'hash set rispetto alle altre implementazioni, è che ci fornisce un ordine di iterazione che non è predicibile. Cosa vuol dire questo? Se pensiamo a una lista, rispondo subito a una domanda, dove possiamo trovare le slide sul sito del corso, nella sezione, nel calendario, nel registro delle lezioni, o le ho linkate lì. Se me le sono dimenticate da altre parti, poi controllo e le vado a mettere anche negli altri punti. Dicevo, a differenza delle liste dove noi inseriamo degli elementi, e poi quando ad esempio ne facciamo un for per ciclare su questi elementi, siamo sicuri che questo ordine, a meno di non ordinare la lista, sia quello con cui abbiamo inserito gli elementi nella lista, giusto? Quindi per primi ci saranno gli elementi che abbiamo inserito prima nella lista. Beh, questo non è vero per un set. Cioè quando noi scorriamo un set, ad esempio facciamo un ciclo for per iterare sugli elementi di un set, non possiamo assolutamente sapere a priori in che ordine questi elementi ci verranno restituiti. E quindi di conseguenza non possiamo neanche ordinare un set, è proprio un concetto che non ha senso. Se abbiamo bisogno di mantenere ordinati dei dati, sicuramente non potremo usare un hash set. Questi sono i costruttori di questa struttura dati, abbiamo il costruttore vuoto, quindi ci crea un hash set vuoto, ma possiamo anche creare un hash set a partire da un'altra collection, da una collection esistente. Come vedete, come parametro accetta una collection di qualunque tipo, quindi addirittura anche una lista, ma ovviamente se in questa lista ci saranno degli elementi duplicati, il costruttore farà sì che questi elementi duplicati vengano collassati in un unico elemento. Dicevo, poi ci sono altre implementazioni dell'interfaccia set un po' più particolari, ad esempio il link dash set è un tipo di set che modella delle informazioni aggiuntive, le vedete qui nelle figure, dei riferimenti tra i vari elementi contenuti, che ci permettono di riuscire ad avere un ordine di iterazione predecibile, nel senso che quando noi scorriamo un link dash set, siamo sicuri che l'ordine è quello di inserimento. Ovviamente questo è a discapito di un po' di performance. Comunque, il concetto che vi deve rimanere in mente è che noi principalmente usiamo gli hash set, se nel vostro programma vi serve mantenere i dati ordinati, allora non usiamo i set, usiamo una lista. Viceversa, vedremo, ci sono altre situazioni in cui è bene usare strutture dati come gli hash set. Quando è che conviene appunto usare i set? Beh, questa figura riassume un po' le performance delle varie strutture dati principali che useremo. Non so se avete visto questa figura relativa alle liste col professor Corno, forse no, ma la vediamo insieme. Vedete qui sulla sinistra abbiamo le due colonne relative alle liste. Link dash set è un set che si comporta, rispondo alla domanda di Francesco, è un set che si comporta internamente un po' come una lista, però le caratteristiche sono sempre quelle di un set, quindi anche lì non possiamo avere elementi duplicati. però eredita alcuni, diciamo così, stratagemmi dalle liste per darti in più la possibilità di scorrere gli elementi in ordine. Solo questo. Dicevo, qui abbiamo i due tipi di liste che di solito usiamo con i loro metodi e di fianco abbiamo i set. La prima cosa che salta all'occhio è che il set ha molte meno operazioni rispetto alle liste. Tutti quei metodi che si basano su un accesso posizionale, vedete dove c'è index, get di index, vuol dire dammi l'elemento alla posizione 5, nei set non ci sono più, ma ci sono solo i tre che abbiamo visto in precedenza. Allora, vedete che una add, quindi un'aggiunta di un elemento, è sempre immediato sia nelle liste che nei set. Usiamo questa notazione immediato, lento, meno lento, un po' qualitativa, si potrebbe andare più nel dettaglio con delle notazioni matematiche, magari qualche accenno di complessità lo vedrete nel corso delle prossime lezioni. immediata vuol dire semplicemente che l'operazione è dal punto di vista matematico o grande di uno. Vuol semplicemente dire che l'operazione non dipende dal numero di elementi che la struttura dati contiene, cioè aggiungere un elemento a una lista o un set vuoto dovrebbe impiegare lo stesso tempo di aggiungere un elemento a una lista o un set con milioni di elementi. Non dipende da quanti dati ci sono attualmente nella struttura dati. Vedete che però le liste sono lente per altre operazioni. Ad esempio, la remove è molto lenta, sicuramente molto lenta per la list, un po' meno lenta per la linked list, ma comunque lenta. Stessa cosa la contents, la contents anche è molto lenta. Mentre vediamo che queste due operazioni sono immediate anche per i set. Questo perché lo vediamo tra poco, però è importante, verifichiamo questa cosa, siamo sicuri che questo sia vero? Possiamo aprire Eclipse e fare un piccolo esempietto. In questo caso non mi serve fare un'interfaccia grafica e quindi creo un progetto Java normale, senza interfaccia grafica, non un progetto JavaFX. Quindi faccio new project, quindi non un Maven project, ma un project normale, un Java project, chiamiamolo esempi, set, finish. Ah sì, per convenzione i nomi iniziano sempre con la lettera minuscola, esempi, set. Va bene, accontentiamolo. Sluggish quindi cosa vuol dire? Domanda che è un'operazione lenta? Sì, vuol dire questo in sostanza, è un'operazione lenta. Ovviamente è lenta, ora lo vedremo, a seconda del numero di elementi contenuti dalla struttura dati, ma ora con questo esempio capirai sicuramente. Allora, nella cartella sorgente vado a crearmi una classe, tasto destro new class, che chiamo main, ad esempio, e chiedo ad Eclipse di farmi generare anche il metodo main. Diamo anche un package magari, perché altrimenti è quello di default. Facciamo così, creiamo un package nella cartella sorgente, almeno non si lamenta con dei warning strani. Usiamo il nostro solito package, it.polito.tdp e all'interno del package adesso creiamo la nostra classe main. Mi sono già di nuovo dimenticato di farmi generare il metodo, scusate, perché la memoria non me lo ricordo mai, quindi rifaccio l'operazione, nuova classe, la chiamo main, ma chiedo ad Eclipse di farmi generare il metodo main. così possiamo lanciare il programma. Eccolo qua. Allora, facciamo subito una prova. Abbiamo visto che le operazioni sui set sono tutte immediate e soprattutto che ad esempio la contains dei set è molto diversa da quelle delle liste, perché per i set è immediata, per le liste invece è tipicamente lenta. Va bene, facciamo una prova. Creiamoci due set, uno molto grande e uno molto piccolo e proviamo a fare la contains in questi due set e in teoria queste operazioni dovrebbero impiegare poco tempo per entrambe. Va bene? Quindi crea un set. Facciamo un set di numeri interi. Set di integer. Ingrandisco, certo. Set di integer. Chiamiamolo little set. Uguale, creiamo new hash set. Integra. Dobbiamo importare le librerie, quindi dobbiamo, mi posiziono con il mouse sull'errore e importo l'interfaccia set, java util, e vado sull'errore sull'hash set e importo l'hash set. C'è una domanda. Giuseppe chiede, non capisco come mai add nei set non dipende dalla dimensione della struttura dati. Non dovrebbe verificare prima dell'inserimento che il dato non è già presente nella struttura dati? Ora, ti faccio vedere che questo avviene veramente e poi capiamo il perché. Quindi nel proseguio delle slide c'è la risposta alle tue domande. Poi creiamo un altro set che chiamiamo in questo caso big set. Di nuovo un hash set. Adesso riempiamo queste due strutture dati, una con pochi elementi, l'altra con tanti elementi. facciamo il primo set magari di 100 numeri, quindi for int i uguale a 0, i minore di 100, i più più, andiamo ad aggiungere 100 numeri a questo set. Quindi little set, questa tastiera non mi piace, però mi devo abituare, little set.add. Possiamo anche pensare di tirare a caso il numero, mat.random, l'abbiamo già usato, vi ricordo che questo restituisce un numero tra 0 e 0,99, noi lo moltiplichiamo per 100, ad esempio, così tiriamo a caso i numeri tra 0 e 99. Facciamo un cast intero perché quello era un float e siamo a posto. Adesso riempiamo anche il big set, quindi mi copio queste tre righe. ovviamente non aggiungiamo più 100 elementi, ma proviamo con un milione di elementi. E qui ovviamente cambio little set in big set. Va bene, abbiamo adesso due set diversi come dimensioni, proviamo a misurare in qualche modo quanto ci mette un'operazione di contents. Come facciamo? Beh, l'idea potrebbe essere questa. Misuriamo il tempo prima e dopo l'operazione, il timestamp, e poi ne facciamo la differenza per capire quanto ci ha messo. Quindi, mi definisco due valori long, uno per il, due variabili per contenere il tempo di inizio e il tempo di fine. Dico che start è uguale al tempo adesso, posso recuperarmi il tempo in mille sec- il timestamp in mille secondi con system.currentTimeMillis. Eseguo l'operazione, supponiamo little set.contains di un numero qualunque, 10, e calcolo il tempo dopo, end uguale system.currentTimeMillis. Facendo la differenza tra end e start, posso dire quanto ci ha messo questa operazione qui. Quindi posso stamparlo. System.out.printLine, diciamo contains nel little set ci ha messo due punti più, facciamo la differenza, end-start e magari aggiungiamoci anche l'unità di misura millisecondi. adesso non sto lì a riscrivere tutto, copio e incollo e poi modifico quello che mi serve. ovviamente le variabili start e end le ho già, quindi le posso cancellare e riutilizzo quelle di prima. Start, ovviamente faccio l'operazione nel big set in questo caso e cambio anche la stampa contents nel big set ci ha messo tot millisecondi. Proviamo a lanciare questo programma. Vedete qui, non so se riuscite a vedere, è un po' piccolo, non so se si riesce ad ingrandire, no, lasciamo stare, comunque se non leggete ve lo dico io, contains nel little set ci ha messo 0 millisecondi, nel big set anche 0 millisecondi, addirittura non riusciamo a vedere le differenze perché sono operazioni immediate, molto veloci, però vedete che l'operazione è molto veloce anche nel set con un milione di elementi. Ma facciamo allora una prova. Questo sarà vero anche per le liste oppure no? Beh, possiamo fare, possiamo cambiare un po' il nostro programma, non usare più i set e usare le liste, ad esempio. Quindi cambio tutto dove c'è set, inserisco le liste. Devo anche importarle. Al posto di un set mettiamo una linked list, ad esempio. Importiamo. Ho sbagliato a scrivere. Linked list. Eccola qua. Quindi cambio tutto dove c'è set, metto list, e dove c'è linked list, dove c'è set, scusate, metto linked list. Cambio magari anche le variabili, vi insegno un trucchetto più facile. Al posto di andare a cambiare tutti i nomi a mano, potete, delle variabili, potete fare tasto destro sulla variabile, refactor, rename. Ok? Quindi, vedete che adesso è un po' evidenziata la variabile, al posto di set, cambio e metto list. Premio invio, e vedete che mi ha cambiato tutti i nomi delle variabili nel modo corretto. Faccio lo stesso su big set, refactor, rename, big list, e magari per l'ultima cosa cambio anche la stampa. Al posto di set, metto list. Adesso, cosa ci aspettiamo? Sicuramente qui abbiamo due liste molto diverse, e io mi aspetterei dunque che la contains ci metta molto più tempo nella big list. Vediamo se è vero. Salviamo. e infatti vediamo che una differenza c'è. Quindi, nella little list ci mette comunque poco perché la lista è molto piccola e quindi, nonostante in teoria l'operazione è lenta, la lista ha pochi elementi e quindi ci mette poco comunque. Ma nella lista grande con un milione di elementi la differenza inizia a crescere. Quindi questo vi fa capire che c'è veramente una differenza di performance nel metodo contains. Domanda da Matilde. Quando creo una classe o package mi dà l'opzione genera commenti, devo metterlo, ma credo sia abbastanza indifferente. Puoi anche non metterlo, secondo me. Va bene. Ma allora che cos'è che dà questa differenza tra le varie strutture dati? Torniamo sulle slide. La differenza sostanziale sta in tutti quei metodi soprattutto dove occorre cercare. Vediamo la contents. Ops, scusate. La contents, ad esempio, significa, ok, vado a vedere nella lista e cerco se c'è un determinato oggetto. Ma anche la remove implica il dover cercare, perché prima di rimuovere un oggetto io lo devo andare a trovare nella struttura dati. Beh, la differenza è che mentre nelle liste siamo costretti a scorrerle per appunto cercare l'elemento, scorrere elemento per elemento, nei set questo non è più vero perché essi si basano su una struttura dati particolare che sono le tabelle di hash. tabelle di hash che sono una struttura dati che implementa un array associativo ed è questa struttura dati che rende veloce le operazioni sui set. Come detto, perdiamo il concetto di accesso posizionale, quindi non possiamo più dire voglio accedere all'elemento posizione 5 dell'array ma ne guadagniamo in performance. Alcune domande prima di andare avanti. A me continua a dare zero millisecondi per entrambe, può anche essere, dipende anche dal computer quanto è sovraccarico o no, eccetera. Provate magari a creare liste ancora più grosse con 100 milioni di elementi. Vedrete che dopo un po' la differenza inizia a vedersi. Parliamo quindi di tabelle di hash. Altra domanda, nel set non fa duplicati, giusto? Il set non può contenere duplicati. Prima di parlare di queste tabelle di hash dobbiamo avere in mente alcuni concetti. Il primo è il concetto di chiave. No, allora, scusate, rispondo a questa domanda. Sì, il set non può salvare elementi duplicati. Mi fa notare il vostro compagno, sì, hai ragione, che nel big set memorizziamo per forza solo 100 elementi perché appunto non può mantenere duplicati. Sì, se torniamo indietro, torno alla versione con il set. Questo mi fa capire che siete molto attenti. ovviamente ovviamente il vostro compagno mi fa notare che se il set non può contenere elementi duplicati, noi andiamo a inserire dei numeri a caso tra 0 e 100 e quindi alla fine della fiera quel set conterrà solo 100 elementi, non un milione. Quindi quello che dovremmo fare è inserire direttamente i. per avere veramente un milione di elementi. Mentre per le liste questo non era vero, infatti si notava la differenza. Comunque fate la prova voi, ora andiamo avanti se no non finiamo più. Comunque grazie per avermi fatto notare l'errore. Dicevo dobbiamo definire il concetto di chiave perché queste hash table sono delle strutture dati che ci permettono di salvare delle coppie chiave valore. Quindi possiamo definire un universo di tutte le possibili chiavi ad esempio supponiamo di voler salvare nella nostra struttura dati l'insieme degli studenti del Politecnico e supponiamo di utilizzare come chiave per ogni studente il loro nome. Allora l'universo di tutte le possibili chiavi in questo caso sarà tutti i possibili nomi delle persone esistenti al mondo ad esempio. Il set di chiavi invece per il nostro programma quindi le chiavi che verranno veramente salvate saranno solo i nomi degli studenti del Politecnico e da questa figura capite bene la differenza tra questi due insiemi valori qual è il concetto dell'HashTable? Il concetto dell'HashTable è quello di utilizzare una speciale funzione di hash che data una chiave ok ne calcoli un numero il più univoco possibile vedremo dopo tale che quel numero ci indichi la posizione in memoria dove l'elemento deve essere salvato vedete che per questo motivo si perde l'accesso posizionale perché io prendo una chiave che voglio salvare nella mia struttura dati applico sopra questa chiave una funzione di hash che può estrarre un qualunque numero univoco secondo i nostri criteri è quel numero univoco e diciamo così l'indirizzo in memoria di dove viene salvato quell'elemento quindi utilizziamo un array dove l'indice calcolato è la posizione nell'array di quell'elemento quindi quando inseriamo un oggetto dentro un hash table utilizziamo una chiave e l'hash code quindi il codice che viene generato applicando la funzione di hash a quella chiave è usato per determinare in che posizione di memoria salvare quell'oggetto internamente viceversa quando io ho bisogno di recuperare un oggetto dall'hash table non vado più a scorrere tutta la lista e quando lo trovo dico ok l'ho trovato eccolo qui ma utilizzo di nuovo la chiave è facilissimo perché io prendo la chiave ci riapplico la funzione di hash e so in automatico la posizione in memoria di quell'oggetto non ho più bisogno di andarli a scorrere tutti questo è il concetto fondamentale dell'hash table spero di essere stato abbastanza chiaro ma che cos'è questa hash function quindi quella cosa che prendo applico una chiave e in automatico ricevo un indirizzo in memoria dove salvare il mio esatto questo come dice Alessio è proprio il motivo dell'assenza di duplicati che cos'è questa hash function è semplicemente una funzione matematica che deve essere capace di mappare un insieme di dati di grandezza arbitraria tipo tutti i nomi di persone del mondo a un insieme di dati fissi ad esempio che va da zero al numero di chiavi che noi stiamo salvando nel nostro programma quindi ad esempio per modellare tutti i nomi degli studenti del Politecnico quindi si dice che H che è la funzione di hash di K che è la chiave è l'hash value della chiave K quindi l'indirizzo in memoria quindi in sostanza questa funzione di hash converte una chiave in un numero e abbiamo due metodologie chiamiamole così principali per strutturare queste funzioni di hash la prima è la compressione la seconda è l'espansione la compressione funziona in questo modo prendo un valore ne faccio la sua rappresentazione numerica in qualche modo lo rappresento come un numero e poi utilizzo l'operatore modulo modulo M io so che ad esempio se faccio un qualunque numero modulo 100 l'operatore modulo mi restituisce il resto della divisione per 100 e quindi io sono sicuro di riuscire ad avere in output dei numeri tra 0 e 100 ok quindi da un insieme molto grande applicando l'operatore modulo mi restringo in un intervallo ben definito dal valore M ok l'altra metodologia è invece l'espansione metodologia che abbiamo già addirittura usato anche nell'esercizio indovina il numero cosa faccio tiro a caso un numero tra 0 e 1 e poi lo moltiplico per M un po' come facevamo in indovina il numero per tirare a caso numeri tra 1 e t se non ricordo male no forse era non mi ricordo più il nome del parametro comunque ci siamo ci siamo capiti le hash function hanno diverse applicazioni tra cui ovviamente le hash table ma sono usate anche in crittografia in sicurezza per autenticazione per assicurare l'integrità dei file eccetera devono avere ovviamente varie proprietà ad esempio un hash table deve essere deterministica quindi alla stessa chiave ovviamente deve corrispondere sempre lo stesso valore di hash devono essere uniformi quindi le chiavi devono essere uniformemente distribuite in memoria eccetera le hash function usate in sicurezza devono avere proprietà ancora più restrittive ad esempio devono resistere alle collisioni e soprattutto non devono essere invertibili quindi io non posso poter ricostruire la chiave k a partire ad esempio dal suo valore di hash altrimenti riuscirei a leggere in chiaro tutte le password banalmente allora vediamo una prima semplice funzione di hash la funzione di omer e già il creatore dovrebbe lasciarvi intendere che qui andremo incontro a qualche problema allora abbiamo letto possiamo usare l'operatore modulo è una delle metodologie che stanno alla base di queste funzioni di hash quindi perché non fare splittare una determinata chiave ad esempio il nome degli studenti nelle sue componenti quindi prendiamo carattere per carattere ne prendiamo la loro rappresentazione numerica di ogni carattere il loro codice ASCII sommiamo tutto insieme ok quindi per ogni carattere prendo il suo codice ASCII lo sommo con quello degli altri caratteri e faccio l'operatore modulo secondo voi questa funzione di hash è buona è furba presenta dei problemi sapete individuare quali problemi ok perfetto Luigi dice gli anagrammi hanno la stessa hash function proprio così Alessio dice il risultato non è univoco esatto mi pare che abbiate individuato il problema il problema sono appunto gli anagrammi perché ad esempio qui NOT e TON ci danno in output lo stesso numero e quindi se noi poi facciamo modulo di quel numero il risultato verrà lo stesso stop spot stessa cosa ma lo stesso problema abbiamo per altri tipi di chiavi quindi addirittura per chiavi numeriche questi numeri con M uguale 173 forniscono lo stesso resto con l'operatore modulo quindi tutti questi numeri andrebbero a collidere a finire nella stessa posizione di memoria e questo ovviamente non è un bene perché abbiamo appunto una collisione allora come facciamo beh l'idea è che purtroppo queste collisioni sono impossibili da risolvere del tutto sì è vero come dice la slide possiamo avere una sorta di hash function perfetta ma la possiamo avere solo in quei casi in cui i dati in cui andiamo a salvare hanno una dimensione piccola fissa e di cui siamo sicuri che non cambieranno nel tempo allora in quel caso sì possiamo avere una funzione di hash perfetta perché possiamo banalmente non lo so associare un id agli studenti se sappiamo che gli id sono assegnati in modo ragionevole che non è possibile avere due id uguali per studenti diversi allora lì possiamo avere una funzione di hash perfetta ma concettualmente no questo non è possibile le collisioni potrebbero purtroppo sempre capitare quindi come detto prima una collisione sta a significare che due chiavi vanno a collidere nello stesso slot scusate nello stesso slot di memoria vanno a collidere nello stesso slot di memoria perché la funzione di hash ci restituisce lo stesso lo stesso numero Francesco chiede io non ho capito come mai ne facciamo il modulo allora farne il modulo è un'opzione per strutturare una funzione di hash cosa deve fare la funzione di hash vedi che qua abbiamo un vettore in memoria che ha m m posizioni d'accordo poi a sinistra abbiamo l'insieme delle chiavi l'universo di tutte le chiavi noi dobbiamo avere una funzione di hash in grado di prendere una di queste chiavi presenti qui d'accordo e trasformarla in un numero che sta tra 0 e m meno 1 perché quel numero è utilizzato come indirizzo all'interno di questo vettore quindi qual è un modo per portare dei numeri di grandezza arbitraria a un range tra 0 e m meno 1 e applicare il modulo che restituisce modulo m ad esempio che restituisce il resto della divisione per m e tale operazione siamo sicuri che restituirà sempre un numero tra 0 e m meno 1 questo è il motivo per cui facciamo il modulo quindi ci sono delle collisioni e le collisioni purtroppo sono possibili quindi chiavi multiple possono avere lo stesso valore di hash e concettualmente evitare queste collisioni è impossibile è impossibile ad esempio questo questo paradosso lo fa lo fa capire abbastanza bene non so se ne abbiate mai sentito parlare supponiamo di voler diciamo così brutto da dire ma salvare delle persone secondo il loro la loro data di nascita ok il paradosso del compleanno ci dice che già con 23 persone quindi se prendiamo 23 persone abbiamo il 50% di probabilità che almeno due di queste siano nate allo stesso giorno se saliamo se saliamo verso le 60 70 persone siamo praticamente certi che almeno due persone compiano gli anni nello stesso giorno quindi sono sicuro che se facessimo un test tra di noi adesso avremmo almeno due persone che compiano gli anni nello stesso giorno quindi questo ci fa capire che le collisioni esistono e sono possibili e sono probabili non possiamo avere probabilità zero e quindi come facciamo beh la soluzione è gestire queste collisioni ci sono varie tecniche ovviamente non dobbiamo farlo noi ma vedremo che lo fa già Java per noi ad esempio l'open addressing è una metodologia utilizzata abbiamo due due metodi principali nell'open addressing uno è il double hashing che vuol dire quando c'è una collisione prova ad applicare un'altra funzione di hash quindi utilizzo funzioni di hash multiple oppure linear probing cioè quando c'è una collisione quindi prendo una chiave prova a metterla in una struttura dati vedo che c'è una collisione e beh provo a mettere quella chiave nello slot subito successivo finché non trovo uno slot vuoto altrimenti abbiamo il chaining che è la metodologia usata da Java che al posto di salvarci direttamente nell'array la chiave salviamo una lista di chiavi e quindi ogni volta se c'è una collisione di nuovo se c'è una collisione vado ad aggiungere alla lista come vedete qua K1 e K4 hanno dato una collisione ma io le salvo tutte e due tramite una lista ovviamente a discapito di un po' di performance perché poi queste liste vanno vanno iterate per trovare la chiave giusta va bene questa slide dice la stessa cosa sul chaining tutte queste bellissime cose che abbiamo detto va bene le abbiamo spero capite ce ne dobbiamo preoccupare noi da questa slide sembrerebbe di no cioè questa slide ci dice che Java già ci fornisce delle hash function ci fornisce delle hash table dinamiche ci gestisce le collisioni eccetera eccetera quindi vedendo questa slide ci vorrebbe da dire benissimo non ci dobbiamo preoccupare in realtà vedremo che alcuni problemi ci sono ed è bene capire come funziona il tutto per evitare errori grossolani in Java ogni classe deve provvedere un metodo hash code che cos'è questo metodo è proprio quel metodo che ci restituisce l'hash value di un oggetto di quella classe quindi in sostanza è l'applicazione dell'hash function attenzione alcuni tipi di dato base tipo le stringhe hanno già un'implementazione di questo hash code facciamo una prova riapro clips cancello tutto non mi serve più ok proviamo a definirci una stringa string studente non lo so studente 1 uguale Alberto va bene proviamo a stampare il suo hash code system.out punto println studente 1 punto hash code lancio vedete questa hash code mi restituisce un numero quindi a partire da Alberto ha applicato un hash function e mi ha restituito un numero che potrà essere utilizzato come indirizzo in memoria se noi creassimo un set benissimo vediamo se l'hash function è sufficientemente furba almeno più furba di quella di Homer studente 2 uguale non lo so cambio l'ordine delle prime due lettere un anagramma quindi proviamo a stampare l'hash code anche di studente 2 se siamo un po' più furbi di Homer mi aspetto che di avere due numeri diversi perché sono due stringhe effettivamente diverse e infatti ho due numeri diversi quindi siamo ragionevolmente sicuri che l'hash function per la classe string funzioni funzioni bene ok qual è il problema il problema è che non tutte le classi di Java hanno questo metodo implementato soprattutto non ce l'hanno le classi che andiamo a creare noi ma questo metodo hash code per le classi per cui non è implementato viene ereditato dall'ash code della classe object quindi la classe che sta in cima alla gerarchia di Java quindi se noi torniamo qui creiamo nel nostro package una nuova classe d'accordo che chiamiamo studente una classe per modellare studenti non lo so uno studente avrà probabilmente un id integer id e supponiamo un nome ok poi ci facciamo generare da eclipse source magari il costruttore di questa classe con i due campi id e nome e magari anche i getter e i setter si sa mai potrebbero servire quindi sorgente genera getter e setter di tutti e due ok abbiamo la classe studente che usiamo per modellare studenti però questa classe l'abbiamo creata da zero e quindi di conseguenza essa eredita il metodo hashcode da object perché questo è un problema perché l'hashcode di object è basato sugli indirizzi di memoria e non sulle informazioni che noi abbiamo inserito in questa classe e quindi rischiamo di avere anzi abbiamo sicuramente dei problemi se noi andiamo utilizzare l'ashcode di default facciamo una prova banalissima mi definisco di nuovo due studenti ma al posto di string definisco come studente quindi studente 1 sarà uguale a new studente ad esempio id 1 virgola e di nuovo alberto ok faccio uno studente 2 e provo a replicare lo stesso studente scusate scusate non uno non due ma uno ora siamo d'accordo no che questi due studenti sono gli stessi cioè sono uguali se io però lancio il programma guardate un po' ottengo due hash value diversi cioè nonostante siano lo stesso studente se noi usassimo questo hash code qui di default avremmo lo stesso studente salvato in posizioni diverse dell'array del set cosa che assolutamente non ci va bene perché questo perché l'hash code che ereditiamo da object è basato sugli indirizzi in memoria e quando noi facciamo la new noi stiamo creando due oggetti diversi poi che al loro interno siano la stessa cosa a java per il momento non interessa lui vede che sono due oggetti diversi e quindi suppone che siano diversi ma in realtà noi sappiamo che in base al contenuto dovrebbero essere uguali ok quindi dovrebbero finire nello stesso slot quindi come facciamo il concetto è che dobbiamo sempre ridefinire se non per quelle classi base tipo string o integer hash code nelle nostre classi ma non basta ridefinire hash code secondo i nostri criteri se ridefiniamo hash code dobbiamo ridefinire anche il metodo equals perché questo perché se i due oggetti sono uguali secondo il metodo equals che sicuramente avrete già usato in passato allora ovviamente l'hash code deve produrre lo stesso risultato viceversa se non sono uguali sempre secondo equals sarebbe meglio che l'hash code produce un numero diverso perché sarebbe meglio per il problema delle collisioni che è impossibile risolvere del tutto ma noi siamo abbastanza fortunati perché se andiamo sulla nostra classe studente facciamo tasto destro possiamo dire ad eclipse ok ho bisogno di ridefinire i miei metodi hash code e equals vedete che loro vengono sempre insieme non potete definirne uno e poi l'altro eclipse ve li fa definire giustamente insieme perché uno dipende dall'altro questa schermata ci chiede su che campi vorresti ridefinire il tuo hash code e di conseguenza il tuo equals e qui sta a voi bisogna ragionare dipende dal tipo di dato che cos'è che differenzia i nostri studenti c'è un campo univoco che li identifica beh direi di sì in questo caso ci basta l'id dato un id siamo identifichiamo univocamente uno studente quindi posso deselezionare il nome e creare il mio hash code e il mio equals sul campo id faccio genera e come vedete lui ha fatto l'override di due metodi l'hash code e l'equals se noi ora salviamo e torniamo di qui questo hash code qui non utilizzerà più l'hash code di equals ma questo qui che abbiamo ridefinito basato su un campo id che è presente nella nostra classe studente se infatti ora lanciamo il programma vediamo che correttamente ci restituisce lo stesso numero perché effettivamente questi due studenti sono uguali vogliamo fare la prova if studente 1 punto equals studente 2 system punto out punto print alle n gli studenti sono uguali mi aspetto che questa stampa vada a buon fine infatti mi stampa gli studenti sono uguali può far rivedere quest'ultimo passaggio su eclipse per ridefinire hash code equals certamente siete sulla classe che avete appena creato vi posizionate dove volete nella classe fate tasto destro sorgente source generate hash code equals cliccate qui ora qui ovviamente è già definito vabbè lo cancello source generate hash code equals e qui appunto ripeto dovete ragionare c'è un campo che mi basta per identificare univocamente un elemento direi di sì quali di di uno studente e faccio generate vedete che l'equals e l'hash code si comportano coerentemente mettere entrambi i campi è sbagliato? no assolutamente non è sbagliato dipende ripeto dall'esercizio vi faccio un esempio in questo caso ho ridefinito i miei hash code equals basandomi solo sull'id quindi se io cambio l'id ok ho cambiato uno in due ma lascio il nome uguale beh mi basta cambiare l'id affinché i miei due studenti siano diversi infatti se io lancio adesso ho due numeri diversi e la stampa non viene più stampata mentre quindi se lo studente 2 lo chiamo Marco gli hash code sono uguali chiede Matteo esatto mentre potrei fare così Marco e lui non si accorgerebbe del cambiamento infatti mi direbbe che i due studenti sono uguali ma io ho fatto così perché non possiamo avere uno studente con un nome diverso con lo stesso id quindi dipende dal problema però se lasciate i due campi va bene funziona lo stesso ma in generale terremo sempre gli equals hash code dati in override ma dipende se ti crei una classe te devi farne tu l'override sei tu che devi farlo mentre se è una classe che magari ti viene data già nello scheletro del programma beh ovviamente l'avremmo magari già fatto noi però può capitare anche all'esame di doversi creare una classe da zero e in quel caso quindi conviene sempre ridefinirsi i metodi hash code equals Alessandro se per esempio per identificare un invocamente ci servono nome e cognome dovevamo lasciare entrambe le spunte sì sì quello dipende appunto dal tipo di problema che volete modellare ok se io avessi fatto una cosa così funzionava lo stesso ok no no anzi se avessi fatto una cosa così mi dovevano togliere probabilmente la laurea il dottorato e sbattermi fuori dall'università attenzione è un errore comune esatto brava Giorgia l'uguale uguale confronta le posizioni in memoria ok di nuovo fa un po' il paio con l'hash code ereditato da object quindi qui facciamo due new quindi questo uguale uguale non sarà mai vera perché facendo due new sono comunque due oggetti diversi gli oggetti delle nostre classi li dobbiamo confrontare sempre con gli equals che va a vedere proprio il contenuto il contenuto delle nostre classi i campi veri e propri lo fa ovviamente se abbiamo ridefinito equals hash code di conseguenza quindi dovrebbe esservi chiaro questo dualismo tra hash code e equals e perché è importante sempre ridefinirli nel modo corretto va bene andiamo avanti le slide qua ripete le stesse cose che abbiamo detto hash code e equals devono sempre andare di pari passo già detto mai usare uguale uguale perché questi come abbiamo detto confrontano gli indirizzi ma sono tutte cose che abbiamo detto nella nell'esempio quindi se torniamo un attimo ancora brevemente all'esempio visto che ora abbiamo ridefinito hash code e equals possiamo ragionevolmente inserire questi studenti in un set in modo tranquillo cioè posso crearmi un set di studente e adesso se io faccio questa cosa qui studenti.ad studente 1 e studenti.ad studente 2 che cosa mi aspetto che collidano esatto ma perché collidano perché abbiamo ridefinito in modo corretto hash code e equals quindi sono due elementi uguali quindi per forza collideranno per noi sono lo stesso oggetto se noi non avessimo ridefinito questi due metodi avremmo usato l'hash code della classe object quindi per object questi sono due oggetti diversi hanno due indirizzi di memoria diversi e non avrebbero colliso quindi avremmo avuto un set di due elementi quando in realtà noi ci aspettiamo che questo set system.out .println studenti.size ci aspettiamo che la size sia uno ovviamente scusate se ritorno molte volte su questo concetto ma è fondamentale perché poi è sempre fonte di errori quindi è bene stressare molto questo punto dimensione uno è quello che ci aspettavamo Mario chiede quindi se ridefiniamo hash code per una classe e poi inseriamo oggetti di quella classe in un hash set dovrebbero essere considerati uguali e sono uguali se avranno i campi uguali i campi che abbiamo usato nell'hash code uguali se hanno campi diversi sono considerati diversi cioè se io qui creo veramente un nuovo studente quindi con i d2 chiamato Mario mi aspetto che la size sia due perché io andrò a salvare due studenti infatti nel set ok benissimo loris chiede verranno concatenati in memoria questa è una bella domanda bisognerebbe andare a vedere l'implementazione se seguiamo concettualmente dalle slide sembrerebbe di sì in questo caso mi viene da dire che per ragioni di performance Java potrebbe accorgersi che sono due elementi uguali e quindi uno non lo vada proprio ad inserire cioè inserisce il primo e quelli che vanno a collidere non li inserisce più nel set ma bisognerebbe controllare poi effettivamente l'implementazione dell'esce set altre domande spero di essere stato chiaro comunque i concetti li abbiamo ripetuti più volte quindi dovremmo esserci va bene allora se non ci sono domande possiamo provare ad andare avanti professore Francesco chiede professore quindi potrebbe ripetere in che casi dovremmo usare source intendi il source qui del menu di Eclipse ok quel quel menu offre tante tanti trucchetti utili che possono tornarci comodi perché banalmente anche hash code equals potevi scriverli tutti a mano nessuno te lo vietava però ad esempio quando devi ridefinire un metodo quando devi scrivere un costruttore piuttosto che scrivere i getter e i setter al posto di scriverli a mano controlla sempre prima nel menu sorgente quindi vai sulla classe clicchi tasto destro source e qui hai varie opzioni no dico hash code equals e questo io ti consiglierei di farlo sempre cioè quando modelli una classe quando crei una classe che modella un'entità del tuo programma quindi qui siamo stiamo parlando di studenti ma se abbiamo l'esame sulla formula 1 ad esempio avremo magari la classe del pilota la classe dell'auto eccetera quindi quando crei questi tipi di classe che modellano un dato che poi andrà salvato da qualche parte per non saperne leggere e descrivere né scrivere rigenerati hash code equals pensando ovviamente ai campi su cui generarli però il concetto potrebbe essere questo per essere sicuro io me li genero sempre poi magari ovviamente questi metodi sono fondamentali se andiamo soprattutto a inserire questi dati in una struttura dati basata sull'hash function ok magari poi questa struttura dati la inseriremo solo in liste chi se ne frega secondo me per non sbagliare è sempre bene farsi generare tramite il menu sorgente che è più comodo gli hash code e gli equals ok abbiamo visto i set qual è la particolarità dei set fatemi aprire un altro set di slide eccolo qua la particolarità dei set era che la chiave quella che andavamo utilizzare con la nostra hash function corrispondeva in realtà a tutto il valore cioè per noi la chiave era il valore abbiamo la possibilità di avere delle strutture dati ancora più chiamiamole complesse non lo so ma che sono le mappe che permettono di disaccoppiare la chiave dal valore cioè permettono di salvare delle coppie chiave valore esistono in quasi tutti i linguaggi di programmazione ad esempio in python si chiamano dizionari qui si chiamano mappe vedete le slide giusto sì quindi che cosa sono le mappe sono un array associativo un dizionario come abbiamo visto sono anch'esse implementate tramite le hash table alcuni tipi di mappe usano altre strutture dati ma le principali sono basate sull'hash table vedete in questo caso abbiamo una mappa chiamata v1 alla cui chiave non è veramente una posizione la chiave la cui chiave 42 è salvato il valore di questa stringa le mappe si discostano un po' dall'interfaccia collection cioè non sono proprio collegate all'interfaccia collection vedete hanno un'interfaccia tutta loro anche qui abbiamo diverse implementazioni pratiche noi di nuovo ci concentreremo sulle hash table sulle hash map scusate ma possiamo avere anche altri tipi tipo le tree map o le link dash map anche qui le hash map non permettono di avere un concetto di ordinamento mentre le tree map si quindi a scapito di un po' di performance ci danno delle funzionalità in più tipo il poter tenere ordinati i dati questa è l'interfaccia della mappa come vedete è tipizzata da due tipi di dato uno per la chiave k il tipo di chiave e v è il tipo del valore quindi ad esempio potremo avere una mappa le cui chiavi siano stringhe e i cui valori siano interi oppure le cui chiavi siano interi ad esempio un id e i valori siano degli studenti gli studenti la classe studente che abbiamo creato noi prima ad esempio che metodi ci permettono di avere queste mappe beh cambiano un po' rispetto come terminologia rispetto ai set abbiamo la put permette di inserire una coppia chiave valore all'interno della mappa quindi qui nella mappa alla posizione identificata dalla chiave chi vado a associare il valore value possiamo rimuovere data una chiave possiamo cercare possiamo cercare sia per chiave che per valore quindi posso chiedermi c'è questa chiave nella mappa oppure c'è questo valore nella mappa ovviamente lo anticipo qui e c'è una grossa differenza tra questi due metodi perché perché qui il contents key si basa sulla chiave quindi sull'hash function quindi è immediata contents value invece non si basa sulla chiave ma sui valori perché qui ovviamente quello che non abbiamo letto è che nella mappa non possono esserci chiavi duplicate ma valori duplicati sì non so se è chiaro questo quindi la contents key è velocissima è esattamente la stessa contents che c'era nei set la contents value invece va a prendere tutti i valori e purtroppo li deve scorrere tutti perché non sono basati sull'hash function e quindi lì in quel caso è lenta vabbè qui possiamo sì ci sono altri metodi che ci offre l'interfaccia ad esempio il metodo key set ci permette di ci restituisce un set il set di tutte le chiavi presenti nella nella mappa il metodo values invece ci restituisce una collection perché di nuovo i valori non sono salvati tramite hash table una collection di tutti i valori della della mappa dicevamo ci concentreremo utilizzeremo in particolar modo l'hash map e di nuovo questa figura ci riassume bene come funzionano questi tipi di mappe vedete che abbiamo di nuovo le chiavi ma mentre nei set la chiave per noi era un po' il nostro valore che poi andavamo a salvare qui la chiave è solo una parte di quello che salviamo perché poi c'è il valore associato e quindi facciamo l'hash function sulle chiavi ci può essere il chaining di nuovo ci possono essere collisioni e poi però accanto alla chiave abbiamo il suo valore di riferimento il suo valore che accompagna la chiave quindi non possiamo avere chiavi duplicate ma i valori possono essere duplicati l'implementazione è sempre basata sull'hash table anche qui di nuovo basata sull'hash table quindi richiede di ridefinire i metodi hash code e equals affinché tutto funzioni in modo corretto altrimenti andiamo incontro a mare di problemi il tipo di dato della chiave deve essere immutabile ma questo mi pare abbastanza ovvio non possiamo cambiare al volo le chiavi ma string interi possono tutti essere usati come chiave quindi questa riassumo un po' le differenze tra hash map e hash set la mappa permette di inserire salvare coppie chiave valore dove ogni chiave è associata a un valore il set invece permette di inserire un oggetto in una collezione di oggetti quindi l'oggetto stesso o parte di esso va bene quindi possiamo anche decidere di dello studente di prendere solo l'id comunque l'oggetto stesso parte di esso è la chiave ma hanno anche delle similarità non accettano chiavi duplicate non sono ordinati neanche non possiamo ordinarle quindi neanche per le mappe abbiamo questo concetto di ordinamento sono basati sull'hash table richiedono di fare l'override di hash code equals e va bene le keys devono essere immutabili le operazioni sulle mappe sulle hash map in particolare come vediamo sono tutte immediate a patto che agiscano sulla chiave quindi che utilizzano le funzionalità della hash function infatti come vi dicevo prima questa contains value andando a vedere controllare i valori è lenta perché appunto in questo caso non si usano le chiavi mentre tutte le altre sono immediate anche qui come preset la link dash map modella delle informazioni aggiuntive che ci permette di sapere quanto meno l'ordine di iterazione quando noi facciamo iteriamo sulla mappa ma non è comunque ordinata non è possibile comunque ordinarla sappiamo solo che l'ordine sarà quello di inserimento se vogliamo mantenere ordinati i dati in una mappa dovremmo usare una tree map ma difficilmente la utilizzeremo in questo corso va bene abbiamo ancora una decina di minuti vi vorrei far vedere quantomeno un esempio di utilizzo della mappa abbiamo qui la nostra classe studente la lasciamo così com'è torniamo di qui cancelliamo il main magari non tutto ma teniamo i nostri due studenti e quale potrebbe essere una struttura dati utile per poter salvare i nostri studenti oltre che un set potrebbe essere proprio una mappa una mappa in cui mi viene in mente potrei avere come chiave l'id anche perché è proprio il campo che è utilizzato per le scode equals quindi so che l'id identifica univocamente uno studente integer queste sono le mie chiavi qual è il tipo di dato che andrò a salvare il valore associato a queste chiavi gli studenti quindi studente faccio una mappa di integer studente studenti uguale new ops hash map integer studente questa è la creazione della mappa di nuovo dobbiamo importare sia l'interfaccia map che è la classe hash map c'è una domanda Luca chiede durante il corso di programmazione di oggetti mi era capitato di mettere come valore di una mappa una lista da un punto di vista di prestazione una cosa poco efficiente in generale ma può sicuramente essere il caso di utilizzare un approccio del genere cioè può essere utile dipende dal dal tuo problema ma non è vietato anzi può essere necessario fare così non è che non sia efficiente il fatto è che potresti essere velocissimo a recuperarti la lista ma poi quando devi fare operazioni sulla lista ovviamente lì ci metterà un po' di più ok però anche lì dipende tutto dal tuo problema perché ci sono casi in cui è fondamentale usare una lista ad esempio quando queste liste possono queste strutture dati possono contenere valori duplicati quindi se mi serve salvare dei valori duplicati ovviamente non posso usare un set oppure questi dati devono essere ordinati allora a quel punto meglio avere una lista se invece ti accorgi che tutto quello che fai con una lista puoi farlo anche con un set allora a quel caso forse vale la pena di passare ad un set stiamo sempre parlando di differenze che però saltano fuori con una grossa mole di dati ok quindi se stiamo parlando di programmi che gestiscono liste o set di centinaia mille diecimila elementi questa differenza sì ci può essere qualche millisecondo ma non è che te ne accorgi ok viceversa se iniziamo ad andare su programmi veramente pesanti che magari utilizzano dei dataset enormi milioni di record milioni di dati allora a quel punto le differenze diventano diventano visibili ok va bene creata la mappa come faccio andare ad inserire i miei due studenti che sono diversi nella mia mappa studenti punto put in questo caso non è più add vedete che il metodo put accetta due due dati il primo è la chiave quindi per il primo studente posso dire studente 1 punto get id e come valore tutto lo studente 1 posso fare la cosa la stessa cosa per studenti 2 quindi studenti punto put studente 2 punto get id studente 2 ho aggiunto nella mia mappa le due coppie chiave valore di studente 1 e studente 2 come faccio a stamparla beh è un po' più complicato rispetto a una struttura dati che modella dati singoli perché qui abbiamo le coppie quindi per stampare una mappa ci sono ci sono vari modi non lo so se vogliamo stampare direttamente solo i valori possiamo farci dare ad esempio i values quindi della mappa quindi studente for studente s in studenti la mia mappa punto values il metodo values mi restituisce tutti i valori contenuti nella mappa io poi posso semplicemente stampare il mio studente facciamo una prova oh che schifo mi aspettavo questo vedete che mi stampa una schifezza come possiamo fare per fare una stampa un po' più carina senza dover andare qui a impazzire con le stringhe ogni volta s.getnome eccetera esatto il toString ma se faccio così non basta sempre uguale perché come dice Alessandro anche qui nello stesso esatto nello stesso modo per cui ho fatto come con il metodo hashcode anche qui il toString sulla mia classe studente che ho appena creato non è ancora ridefinito quindi sto ereditando il toString da object e mi stampa una schifezza ho creato una mia classe oltre alle hashcode e liquides posso anche rigenerare il toString per stampare un po' come voglio io i miei studenti quindi source generate toString e poi qui stampo quello che voglio possiamo anche lasciarlo così potete cambiare questa stringa per farla più bella non importa l'importante è vedere che adesso effettivamente mi stampa i due i due studenti in modo furbo va bene siamo giunti a questa lunga carrellata sui set sulle mappe forse è stata un po' noiosa in certi punti ma era importante ribadire bene questi due tre passi che bisogna sempre fare per non incorrere in problemi che purtroppo poi vediamo spesso quindi noi speriamo che voi non li commettiate non so se avete domande non mi è chiaro Loris chiede come è stato gestito l'override dell'hashcode da Eclipse perché sceglie l'intervallo 1.31 potrebbe rispiegare il funzionamento velocemente allora l'intervallo 1.31 immagino ti riferisci qui a questi numerini qui questa diciamo così è la hash function che utilizza internamente java la strutturata così ma noi ci fidiamo che funzioni funziona meglio dell'hash function di Homer perché abbiamo visto che con gli anagrammi funziona quindi non andrei a vedere i dettagli implementativi dell'hash function che ci genera in automatico Eclipse noi siamo ragionevolmente sicuri che funzioni e se siete interessati a capire come funziona trovate sicuramente sulla documentazione i dettagli implementativi di questa funzione Giorgia chiede come si fa a stampare gli oggetti di un set beh gli oggetti di un set supponiamo di avere un set di interi semplicemente come per le liste posso fare for ora il set è vuoto quindi non stamperà niente ma posso fare for integer l'elemento n in temp e poi fare system punto println e stampi Mario Mastandrea quindi se ho capito bene sia i set che le mappe si basano su delle hash table sette mappe implementate tramite hash set e hash map queste si basano sulle sulle hash table altre implementazioni tipo le tre map ora non non sono sicuro ma dovrebbero unire concetti delle hash table con informazioni aggiuntive per avere ad esempio il concetto di ordinamento Beatrice prof a me comunque stampa bene anche solo implementando il two string in studente senza mettere nella sua riga 21 nel me sì certo sì 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 questa two string è superflua se ridefiniamo il two string di là quella two string è superflua ok vi siete vi siete risposti da soli ok perfetto va bene sono le due e mezza direi che possiamo chiudere qui vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo nei prossimi video stoppo la registrazione ciao 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 ciao